Si avvicina il derby, il weekend del derby sta per iniziare Ben ritrovati amici di QSWS, vi ricordo se vi va di lasciare un like qui sotto e di iscrivervi, attivate la campanella se non lo avete ancora fatto È la settimana del derby, ogni giorno che passa ci sono novità ovviamente di formazione da una parte e dall'altra, devo dire che ci sono più incognite come sapete, se ci seguite anche costantemente su Top Calcio 24, Tele Lombardia e Antena 3 ci sono più incognite nel Milan a livello di formazione, recuperi che devono essere verificati Detto questo è un derby molto molto importante, probabilmente anche decisivo per il Milan Mi spiego, perché se le cose vanno male il capitolo scudetto comunque molto complicato verrebbe chiuso, impacchettato e buttato definitivamente e a quel punto il Milan dovrebbe guardare ovviamente alle sue spalle a cercare di difendere un posto nei primi quattro con la Juventus che è intervenuta in maniera importante sul mercato con Vlaovic e Zaccaria Un pareggio non cambierebbe molto nel senso che a quel punto l'Inter con quattro lunghezze di vantaggio una gara in meno sarebbe difficile da recuperare e dietro è chiaro che qualcuno potrebbe avvicinarsi Ripeto, se Milan vince allora si riapre il discorso scudetto chi sperava di recuperare già in questo turno dei punti in chiave Champions rimarrebbe deluso per questo all'Inter vanno bene due risultati al Milan per tenere aperto il discorso scudetto che è molto complicato la vittoria, viceversa con il pareggio e una sconfitta addio sogni di gloria e si lotta fino all'ultimo per conquistare un piazzamento in Champions League fondamentale perché porta anche tanti soldi e quindi chi va in Champions e chi non ci va avrà un mercato sicuramente diverso a proposito di mercato il Milan arriva con un sentimento un po' diverso il tifoso milanista rispetto a quello neroazzurro i tifosi neroazzurri sono sicuramente esaltati dall'operazione Gosens abbinata a una classifica che li vede primi e ancora in Champions League dall'altra parte il tifoso rosso nero è rimasto un po' scottato deluso, amareggiato da una campagna acquisti che doveva portare rinforzi su tutti il sostituto di Kier che è fuori, ricordiamo, dal primo giorno di dicembre invece sappiamo tutti che non è arrivato un mercato complessivamente deludente è arrivato l'Asitic, ragazzo di belle speranze da verificare, da aspettare, 18 anni appena compiuti questo sicuramente un peccato per chi ha il Milan nel cuore però ora inizia il campionato, inizia un nuovo campionato sperando di recuperare tutti i giocatori e di non perderli più perché chiaramente quello che maggiormente ha condizionato la prima parte di stagione è stata la moria di infortuni uno dietro l'altro tanti, tanti, tanti con il Milan più costantemente ha giocato le partite con 3, 4, 5, 6 giocatori fuori sembra, usiamo il condizionale che la situazione stia migliorando detto che ovviamente il Milan ha perso Kier lo recupera per tutta la stagione ci arriviamo anche con sirene di mercato in casa Milan la vicenda a Kessy che è arrivato poi in ritardo dopo i due giorni di vacanza dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa Kessy che si sta allenando molto bene a Milan io dico, è giusto che sia così un professionista deve allenarsi bene deve tornare in tempo la speranza è che Kessy faccia il suo dovere da qui alla fine della stagione senza mollare di un centimetro è chiaro che poi andrà via si parla di Barca, si è parlato di Juve oggi si parla anche di Real Madrid vediamo, in ogni caso il Milan non ha più speranza di rinnovare che sì e come sapete vuole provare a chiudere Renato Sanchez identificato come il sostituto ideale notiamo però anche che è giusto parlare ad esempio anche di Brozovic ieri sera si è iniziato a parlare un po' di più di Brozovic perché da mesi ci avevano detto Brozovic rinnova sicuramente è fatta però la firma non è ancora arrivata il Club Nerazzurro ha presentato un'offerta da tempo la firma non arriva e quindi le parole se le portano via al vento il Barcellona che ha messo nel mirino che sì ha messo nel mirino anche Brozovic e quindi è una vigilia un po' agitata sui due fronti che sì, Milan, Inter, Brozovic anche se probabilmente mi aspetto che Brozovic possa mettere la firma su rinnovo in neroazzurro dall'altra parte che sì invece andrà via sicuramente interessante poi alcuni duelli che ci dobbiamo aspettare quello ad esempio sulla fascia sinistra del Milan con Teo Hernandez contro Dumfries in avanti poi Celeao che può fare sicuramente la differenza sulla fascia destra del Milan c'è Calabria con Salemakers contro Perzic che spesso e volentieri nei derby ha fatto male è chiaro che poi la partita si deciderà in mezzo al campo con Tonali, Ben Nasser che sì che dovrebbe fare il trequartista e proverà appunto a schermare Brozovic per chiudere un po' le linee di passaggio da parte della fonte principale di gioco dell'Inter che è appunto il Croato il Milan ci arriva con qualche assenza in più è chiaro però è una squadra che ha dimostrato spesso e volentieri di saper andare oltre le difficoltà l'Inter è una squadra forte io mi aspettavo che quest'anno trovasse più difficoltà dopo aver cambiato pelle in estate ha cambiato anche allenatore invece sta facendo sicuramente un percorso netto tra gli ingredienti di questa partita anche la presenza di Ciannoglu che all'andata si procurò un calcio di rigore secondo me dubbio con un genitore di Kessy in area vedremo come andrà in questo caso il nuovo incontro ravvicinato contro i suoi ex compagni il Milan come sostituto ha deciso di puntare su Diaz prima parte di stagione ottima poi però primissima parte di stagione perché poi lui non segna da 25 settembre e spesso e volentieri è stato anche un po' l'uomo in meno del Milan vedremo se riuscirà a riprendersi proprio nel derby non è detto che parta dall'inizio in questo momento vediamo più che si trequartista dovesse subentrare sicuramente avrebbe tanta voglia di provare a sbloccarsi nel derby di fronte a Ciannoglu che dall'altra parte ha fatto sicuramente bene vedremo dunque come andrà la partita noi ve la racconteremo a QSVS con la mia telecronaca con la di Gianluca Rossi e poi nel post partita vedremo ovviamente chi avrà sorriso chi sarà un po' più disperato è un derby molto importante sempre, sempre il derby è la partita dell'anno negli ultimi tempi è diventata ancora di più perché spesso è stato uno scontro al vertice questa volta l'Inter ha l'occasione ghiotta di cui darò il discorso il Milan ha di provare a riaprirlo o comunque di rimanere in piena corsa rispetto alle proprie ambizioni di Champions League è la gara del weekend è la gara forse anche dell'anno oggi Bastoni ha detto non andrò mai al Milan del Milan temo Leao effettivamente Leao può essere l'uomo in più del Milan sperando dal punto di vista rosso-nero che non si prenda delle pause che ultimamente l'ultima mezz'ora spesso volentieri si è preso nel senso che nel secondo tempo calava e poi veniva sostituito sfida anche tra Pioli e Inzaghi entrambi ex allenatori della Lazio hanno avuto anche storie incrociate che dire vediamo poi l'avvicinamento come prosegue con buone notizie speriamo di sì per entrambe detto che ovviamente l'Inter li ha pressoché tutti a disposizione il Milan invece ha delle incognite che proveremo poi a chiarire anche qui su YouTube oltre che sui nostri canali vi invito a lasciare un like iscrivetevi se non avete ancora fatto vinca il migliore si dice lo sapete io ho una preferenza un saluto